Non si poteva o doveva pretendere di più da un amichevole di agosto, ma mentre il Montorio andrà completato nell'organico e nonostante ciò ha lasciato intendere che è sulla buona strada, il San Nicolò ha mostrato di avere mentalmente fatto propria la predisposizione a giocare, tenendo palla, tipico di squadre dalle grosse potenzialità. D'altronde Bisegna e Napolano a supporto di Traini la dicono lunga sulla forza propulsiva di una formazione che sarà comunque chiamata a fare bene, se non benissimo, in campionato. Il San Nicolò la gara l'ha vinta 2 a 0, ma non è un caso che il gol del primo tempo sia nato da un'invenzione di Bisegna che ha mandato in gol Traini da posizione favorevolissima. I ritmi non eccelsi della prima frazione di gioco, terminata 1 a 0, sono variati nella ripresa che ha offerto diversi episodi in zona rete. Vuoi perché la scuola di Epifani ha cambiato radicalmente pelle, potendoselo permettere, vuoi perché gli ospiti hanno gradualmente messo dentro tanti classe 98 e 99. E allora al quindicesimo di Lullo impegna Angelozzi e sul proseguimento dell'azione Moretti colpisce un palo da ottima posizione. Chiacchierelli al trentatresimo, calciando però malamente e due minuti più tardi, prima il colore di Testi e poi Massetti, mancano il facile 2 a 0, così come accade al minuto 41, sempre con Testi da ottima posizione. Il 2 a 0 arriva al minuto 43, quando lo sempre Testi riesce finalmente a metterla dentro, per poi colpire un altro regno sporco allo scadere. Alla fine tutti soddisfatti, di più Massimo Epifani. Buone, buone per quello che voglio fare, la squadra l'ha iniziata a fare, anche con tempi ancora bassi perché abbiamo molto carico sulle gambe, però le idee sono quelle, iniziamo a fare qualcosa di quello che vogliamo fare per come abbiamo impostato la squadra. Molto possesso di palla. Sì, è una squadra che farà molto possesso di palla perché ha come caratteristiche giocatori con grande tecnica e quindi bisogna tenere palla e poi per andare dentro, quindi lo stiamo iniziando a fare, ci dobbiamo lavorare ancora tanto, però siamo sulla buona strada, anche se non sarà questo l'unico modulo di riferimento perché il vecchio modulo è sempre quello che Epifani preferisce. No, quello che Epifani, in diversi momenti della partita si può cambiare anche modulo. Nel primo tempo abbiamo visto Napolano molto più a sinistra ma spesso anche a destra e lui è bisegna qualitativamente, insomma dovrebbero fare lì davanti la differenza. Per quello che abbiamo preparato, per quello che stiamo facendo, non devono dare punti di riferimento, sono giocatori che devono giocare fra le linee e se riescono a prendere la palla lì sono giocatori che determinano le partite, quindi dobbiamo capire come squadra che dobbiamo arrivare lì e ci stiamo lavorando, ci vuole il tempo, però siamo sulla buona strada. Ultima considerazione, non è bello mai parlare dei singoli, però quando un attaccante si trova 7-8 volte davanti alla porta, magari ne sbaglia 6, però alla fine fa gol, e sto parlando del ragazzo di colore che hai lì davanti, qualche cosa di positiva deve starci per forza. Ma di sicuro, intanto c'è arrivato e ci sta poi una forza di volontà incredibile, lui deve migliorare tecnicamente, abbiamo pure modo e tempo di lavorarci perché se lui migliora tecnicamente si dovrebbe essere un giocatore di grossa prospettiva. Grazie. 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 Grazie.